Di Giuseppe Ungaretti, Indormiveglia, Valloncello di Cima IV, il 6 agosto 1916 Assisto la notte violentata. L'aria è crivellata come una trina dalle schioppettate degli uomini, ritratti nelle trincee, come le lumache nel loro guscio. Mi pare che un affannato nugolo di scalpellini batta il lastricato di pietra di lava delle mie strade ed io l'ascolti non vedendo, indormiveglia.